A Sant'Arsenio ieri sera presso il centro commerciale Cassiopeia è stata presentata la nuova stagione sportiva della squadra di pallavolo femminile ASD Janus. Alla conferenza hanno partecipato tra gli altri il presidente Katia Vimborsati, il vicepresidente Arsenio Spera e il segretario Maria Giovanna Rescinito. Quest'ultima ha illustrato alle nostre telecamere notizie e curiosità di una compagine che da più di tre anni sta facendo crescere come in una vera e propria cantera giovanissime pallavoliste under 16 tra Sant'Arsenio e Petina. Ci aspettiamo grandi cose, abbiamo iniziato dal piccolo nel 2014 per crescere sempre di più, speriamo di poter fare grandi cose, ce la mettiamo sicuramente tutta. Al momento abbiamo una sessantina di iscritti e siamo presenti sia sul territorio di Sant'Arsenio che sul territorio di Petina dove abbiamo anche lì una ventina di atleti. Iniziamo con il mini-volle, ci sono bambine dai 5 anni in su per proseguire con la categoria under 12, under 16 e seconda divisione. La più grande atleta credo una ventina d'anni. Per quanto concerne invece il campionato stiamo disputando, è iniziato già da 4 settimane, un campionato di under 16, mentre sicuramente dopo le festività natalizie inizierà il campionato di seconda divisione. Al momento nella società fanno parte una sessantina di atleti, siamo presenti sia sul territorio di Sant'Arsenio che sul territorio di Petina dove abbiamo una ventina di iscritti. Stiamo disputando il campionato di under 16 che è cominciato da 3 settimane, mentre subito dopo le festività natalizie inizieremo il campionato di seconda divisione. Mentre per le piccole del mini-volle, faremo dei tornei e credo proprio che già dalla settimana prossima, cioè domenica prossima, saremo ad Eboli per partecipare a questa manifestazione del mini-volley.